Siamo ormai alla fine del giorno d'andata, quindi è tempo di bilanci. Come sta andando la tua squadra? Problemi vari, ci hanno rilegato in una posizione classifica non ottimale, però cercheremo di rifarci nel giorno di ritorno. Siete partiti con un obiettivo in questo campionato oppure per vivere la giornata? No, grossi obiettivi no, ovvio. Si punta sempre a fare il meglio possibile, poi viene quello che viene. L'importante è comunque avere un gruppo buono, divertirsi e fare un bel gioco, provarci almeno. Raccontaci qualcosa della squadra, come mai il nome, quali sono i punti di forza, siete un gruppo di amici? Inter Vikings è una squadra che ha più di dieci anni che medita nei campionati di calcio Liguria, quindi ha un bel passato, nata da un gruppo di amici, addirittura quasi dalla scuola, che poi è andata avanti, nasce cosa e si è creata questa squadra che tutti gli anni cerca di creare sempre dei gruppi di amici per divertirsi fondamentalmente. E poi, ovvio, si punta sempre a fare il risultato migliore, però insomma, prendiamo quello che viene, corso il riso. Punti di forza della squadra, c'è la punta, Schenno, Andre Rizzo, insomma, che è il fratello del socio fondatore. Poi tutti diamo il nostro contributo per cercare di fare il meglio possibile.